Buongiorno ragazzi, oggi vorrei parlare con voi di una cosa molto importantissima per tutti, per te, per me e per alcune persone, e questa cosa è Studio 9. Nostro allenatore ha detto a me che dopo Studio Davini, i nostri calciatori giocavano più bene dei tutti. Se tu non credi, tu devi ascoltare con me un film musicale. Aspetti, ci ascoltiamo. 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 Aspettiamo. 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 Aspettiamo.